ciao 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 stelline ciao com'è stata? com'è stata? com'è stata? io ovviamente ovviamente spero che fatta tutto 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 molto 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 bene benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in uno video che come sicuramente avrete già letto dal titolo riguarda i preferiti del non del mese ma come sapete sto facendo i preferiti del periodo perchè non riesco più ad essere puntuale come prima e quindi a colpo sto facendo magari più mesi nei preferiti del periodo ma già ho spiegato tutto nei precedenti video però come sempre saluto e mando un bacione alla mia amica Alessia del canale Alessia smr con cui collaboro ma anche questo lo sapete già e approfitto anche per salutare e ringraziare i miei abbonati che sono giuseppe 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 valentina valentina pittiscone 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 chiare un bacione un bacione stelline con loro come vi dico sempre mi sento e hanno in anteprima i miei video e gli spoiler sui miei video nel gruppo telegram riservato agli abbonati quindi se volete entrare a far parte di questa chat e avrete vantaggi potete abbonarvi al mio canale ok partiamo subito con il video e davanti a me come sempre ecco ho il foglio con suo scritto suo puntato soprattutto i film non altro ma i film o le serie perchè ci sono dei dettagli insomma che vi voglio dire non voglio dimenticarvi dimenticarvi e poi vabbè i titoli che non li ricordo sempre tutti anche perchè a volte lo sapete sono davvero tante e non voglio che mi sponga qualcuno ah però partiamo prima dalle canzoni allora per quanto riguarda le canzoni per quanto riguarda le canzoni devo essere sincero questo periodo ascoltato soprattutto canzoni vecchie soprattutto musica il mio fidanzato adoriamo ascoltare musica di quando eravamo più piccoli in macchina quando facciamo i nostri giri però però per citarvi qualcosa di nuovo vi dico che ho ascoltato il nuovo album di Marrakesh e devo dire qualche canzone mi piace parecchio ma soprattutto adoro ho adorato la scelta delle basiche sono canzoni insomma già conosciute e secondo me è una figata è molto ridicolare la scelta di mettere delle basi conosciute con un testo insomma ripato fatto da lui e mi è piaciuta devo dire la verità l'idea mi è piaciuta per quanto riguarda invece filmo le serie parto subito con le uniche due serie che sono cioè che in realtà sono tre diciamo perché ho rivisto per la terza volta sex life di cui vi ho già parlato mi piace troppo e sono in attesa della seconda stagione e mi sa che lo riguarderò anche una quarta volta perché voglio farlo vedere anche al mio bilanzato poi ah ho concluso riperde il sotto che stanno uscendo le nuove puntate della sesta se non è lo stagione e quindi rinizierò subito un'altra stagione sempre in subita e una serie lupa è The Wilds The Wilds che ho visto su Prime ed è una serie del 2020 genere drammatico azione comunque drammatico ed è una sola stagione ma credo credo che proseguiranno perché partire non è appeso ma mi sembra che sia andata anche abbastanza bene quindi penso che continueranno questa storia vi dico subito la trama allora sono delle giovani ragazze adolescenti non ricordo forse 8-10 che sia per loro volontà o alcune per volontà dei propri parenti genitori sono state iscritte a una sorta di campeggio estivo per giovani femministe e è ambientato ai giorni nostri e però si trovano su un'isola deserta a causa dell'incidente aereo del loro aereo questo aereo privato che le stavano portando in un'isola dell'hawaii quindi avviene questo incidente quindi la prima puntata voi vedrete queste ragazze insomma che si svegliano e si ritrovano su questa isola e cioè in realtà mi potrei già subito dire che si sa che sono state salvate non è che vi spoilerò niente perché già dalla prima puntata si vedono si vedono alcune di queste ragazze che vengono interrogate da dei poliziotti insomma dall'FBI però sarà interessante capire che cosa è successo dove si trovano e chi le ha salvate quindi io ve la consiglio perché a parte è stata molto avvingente mi è piaciuta non è mi ha tenuto abbastanza incollata e sono curiosissima di vedere il continuo anche se già insomma alla fine della prima stagione si snoda quasi tutto e però ve la consiglio ve la consiglio per quanto riguarda i film invece ho visto su Netflix amici amanti ed è un film che avrei voluto vedere già a tempo fa un vecchiotto 2011 se non erro con protagonista Natalie Portman che quanto è bella stupenda e praticamente i due protagonisti che si chiamano Adam ed Emma fanno il loro primo incontro a una festa quando erano piccoli ma forse nemmeno adolescenti mi sto schioccando le dita comunque erano vicini penso 12 anni e e poi si rincontrano più volte nel corso della vita non così tante volte però si incontrano diverse volte nel corso della loro vita fin quando perché si sono sempre piaciuti fin quando poi si danno diciamo tra virgolette la possibilità perché lui è pronto ma lei ha un po' paura di regarsi quindi diciamo questa è la storia non mi dico il finale ovviamente e l'ho trovato molto molto divertente e anche romantico ma è soprattutto divertente cioè non è un film comico però mi ha divertito è simpatico poi 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 ha un film che mi è piaciuto tantissimo l'ho visto proprio poche sere fa e si intitola Dove la terra trema e l'ho trovata su Netflix ed è nuovissimo mi è ambientato ehm negli anni 80 90 comunque in ogni caso negli anni 80 ehm sto tenendo il foglio perché non si mantiene aspettate ecco ehm negli anni 80 una ragazza decide di lasciare il proprio paese penso sia americana non voglio dire stupidacci comunque ehm lascia il proprio paese per trasferirsi a Tokyo per lavorare come traduttrice e ehm però ehm il film si apre ehm nel momento in cui la prima scena una delle prime scene è quando lei viene accusata di un orribile omicidio anche qui non vi sto spoilerando nulla perché appena guardo il film vedete questa cosa ma è interessante è interessante capire che cosa è successo e poi attrice super mega brava e ambientazioni meravigliose cioè io sono fissata con Giappone e America cioè sono fissata con tante parti del mondo però il Giappone è così diverso beh l'America è il sogno però il Giappone è così diverso e quando vedo film con quelle ambientazioni e mi rilasso già vi giuro adoro quindi già avrebbe la pena per vedere Tokyo un po' di Tokyo e però veramente vale la pena perché l'attrice è bravissima e la storia è al suo perché devo dire mi è piaciuta e poi poi passiamo poi passiamo all'ultimo film che è una figata si chiama The Trip guardatelo però vi devo fare una precisazione comunque lo trovate su Netflix la precisazione ve la faccio alla fine comunque è un action comedy e anche questo credo sia nuovissimo e praticamente è cioè si riguarda una coppia in crisi che progetta di andare a fare un weekend nella loro paeta in montagna per non ve la voglio dire questa cosa perché non mi voglio spoilerare nulla non vi dirò nulla di più è molto particolare perché vi giuro è un thriller cioè è un film d'azione ma è anche divertente ma non non comico come vi ho detto anche per l'altro film cioè non comico tipo i film non so di che cozzalone ecco però a me piacciono gli action comedy o i come si chiamano o i traggi comici cioè ve lo dissi e l'unica ecco la precisazione che soprattutto verso la fine è splatter ma non quello splatter stupido cioè non vi aspettate un film stupido assolutamente a parte che proprio mi piace come è stato fatto bravissimi cioè bravissimi sia attori che proprio complimenti al regista alle scenografie e tutti bravissimi e però però devo ammettere che c'è un po' di splatter verso la fine quindi se vi da fastidio non lo guardate ok abbiamo concluso con i film siamo già a 15 minuti solo per parlare di film ecco perché a volte divido le due cose e passiamo subito al cibo del mese allora io quando vedo su instagram vi confesso questa cosa ovviamente quando ho confidente e vedo su instagram che qualcuno sta facendo la dieta sta facendo la dieta o chissò sapete a volte si condivide anche quello che si mangia o magari c'è chi non può assumere grassi per determinate patologie per il colesterolo alto eccetera e si condivide la propria dieta quello che si mangia vi ripeto eccetera e vedo che in alcuni acquistano la Philadelphia light che non è light cioè o acquistano quella senza lattosio pensando erroneamente che sia light assolutamente no molte cose senza lattosio non sono non grasse anzi mia madre intollerante al lattosio e molte cose che le compra trovo che sia non trovo sono più grasse di quelle normali quindi perchè il lattosio è lo zucchero del latte non è il grasso del latte e quindi vi do acquistare queste Philadelphia light o senza lattosio in realtà in realtà in realtà la vera Philadelphia senza grassi con pochissimi grassi e invece più ricca rispetto alle altre di proteine quindi perfetto anche per chi fa palestra eccetera è questa qui questa magari non ho fatto lo so non ho fatto nessuna scoperta dell'America però a parte vabbè ho capito che alcuni non ci fanno caso oppure pensano ma pure all'inizio la snobab neanche mi ero soffermata a capire che Philadelphia fosse poi dopo un po' di anni che la vedivo nello scaffale ho detto ma fammi dare un'occhiata e niente la sto usando praticamente sempre e la duro ci faccio la pasta la metto sulla i panetti di grano nelle insalate fargisco cose oppure anche a colazione con una fetta di pane caldo ai cereali questa vela delfe è la marmellata di figlio di albicocche adoro cioè praticamente uguale a quella normale di sapore vi dico la verità non sento questa differenza ed è molto 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 meno grassa ha il 2,5% di grassi e ha e ha in più l'11% di proteine quindi ve la consiglio e poi a colazione però la cosa che sto mangiando ultimamente più spesso faccio latte a caffè e mealbops mealbops esatto quelli che tra l'altro sono sono ricchi hanno vitamina D diamina ripoflavina neagina vitamina B6 aceto folico e vitamina B12 non credo in elevate quantità però già che ci sono anche se poche non fa nulla meglio così e mi piacciono tantissimo li trovo un po' dolci devo dire la verità però basta non zuccherare il caffè è un po' si bilancia ma mi piacciono troppo 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 e perché sono stata fuori con mio fidanzato due giorni a nessuna parte in particolare però ogni tanto ci prendiamo un appartamentino per stare un po' da soli e anche perché con la situazione non ci fate andarci in giro a fare chissà cosa quindi ci piace ogni tanto nel weekend stare un po' da soli così in appartamento e nell'ultimo che siamo andati la proprietaria insomma la proprietaria ci ha fatto trovare questi cereali per colazione e mi avrebbe venuto in mente insomma quando ero piccola li mangiavo e dopo qualche giorno le ho acquistate anch'io perché mi piacciono molto e ok quindi questo per quanto riguarda il cibo per quanto riguarda i prodotti le doccia vi segnalo niente di nuovo perché venivo straparlato dei mantovani il pannio schiuma ma non avevo mai stavo dicendo assaggiato ho provato questo chissà se mette a fuoco eccolo qui vi leggo subito ai tre oli cosmetici tipo allergenico più protezione con vitamina E allora gli oli sono olio di camelia mandorle dolci e ci spero che non so cosa sia mi informerò e mi piace tantissimo c'è un profumo assurdo ma come tutti i panni schiuma mando panni mi piacciono troppo passiamo a una cosa che ho dimenticato e che ora ando a prendere cioè il prodotto del mese eccomi come sapete per chi mi segue su instagram se non lo fate seguitemi se vi va mi sono bloccata con la cervicale dopo il video al mare ho preso parecchio freddo quando c'era vento è stato uno dei primi freddi potenti che hanno fatto che ho fatto ed ero seduta aveva appena finito di piovere ed ero seduta sulla sabbia abbagnata il vento addio e quindi sono stata bloccata almeno cinque giorni col collo e non riuscivo a fare nulla è stato un incubo non solo il collo proprio fino a metà schiena e già lavarmi è stato un enorme sacrificio nel senso che veramente non potevo nemmeno abbassare la testa e quando lavavo i denti non vi dico cioè mi faceva male il braccio anche se lavavo i denti e non solo il braccio mi tirava fino sempre dietro la schiena come vi ho detto e però toccava comunque farlo e soprattutto i capelli cioè era impossibile fare lo shampoo allora allora mi sono detto vabbè ho lo shampoo secco uso quello che devo fare quello della Batiste che adoro il mio top preferito mi era finito quindi il mio fidanzato mi va a comprare quest'altro perché su Amazon c'era però mi arrivava dopo qualche giorno nonostante avessi Prime la consegna cioè non c'era il Prime non c'era la possibilità di acquistarlo tramite Prime e insomma c'era ma tipo arrivava dopo una settimana e non mi serviva mi serviva urgente e dopo aver chiamato varie profumerie per non far girare il mio fidanzato appunto nessuno lo aveva doveva arrivare c'è stata una razzia di shampoo secco della Batiste e quindi mi ha preso questo qui questo qui mi ha salvato lui allora vi leggo subito questo punto è uno shampoo secco qui c'è scritto non appesantisce facile da spazzolare via zero residui abbastanza ah per capelli fini e deboli ho preso quello di volume perché ce n'erano anche altri ma mi serve anche come effetto volumizzante per effetto per dare effetto volumizzante ed è della palette per tamponare devo dire che non mi è dispiaciuto infatti se non trovo quello della Batiste da oggi in poi posso tranquillamente eccolo qui usare questo non ricordo quanto l'ho pagato non mi ricordo magari ve lo scrivo da qualche parte e poi che c'è più ah passiamo ai prodotti make up del periodo per non citarvi sempre le esatte cose che però sono anche quelle che uso di più vi dico che mia madre mi ha comprato perché visto che mi stava finendo il fondo tinta e non mi ha ripreso il mio ora non ho capito se perché non c'era ho fatto semplicemente di testa sua e mi ha preso questo qui questo qui della Max Factor ovviamente non vedrete nulla ti vede vabbè questo qui è il Face Infinity all day flawless airbrush finish vegano spf20 e il numero è numero 45 warm almond comunque comunque allora l'ho provato poche volte lo sto testando non mi voglio pronunciare più di tanto sembra sembra il colore mio sembra abbastanza buono certo per me è insuperabile il mio della Deborah vabbè è per me il migliore in assoluto per la mia pelle e insieme a questo qui in omaggio c'era l'acquistato d'acqua e sapone troverete l'omaggio anche 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 vedete omaggio il correttore il correttore devo dire non mi ha fatto impazzire troppo troppo duro e poi io adoro il mio ve l'ho fatto vedere nei preferiti del periodo del video scorso insomma stupendo se lo trovate e compratelo io sono innamorata del correttore migliore che abbia mai provato nella vita ed è uno di Essence mi sembra la linea sia anche tipo linea vegana linea più non mi ricordo comunque l'ho visto poco cioè nel senso è l'hanno fatto l'hanno creato da poco perchè non l'avevo mai visto prima di quando poi sono andata a comprarlo e per caso mi serviva un correttore urgente per tamponare perchè il mio mio era finito e ero più vicino all'OPS che la profumeria dove lo compro abitualmente e incredibilmente ho sostituito il mio correttore che uso da anni che costa tipo quattro volte quello della Essence lo adoro non mi ricordo come si chiama e ce l'ho meglio che non mi alzi di nuovo perchè mi devo staccare i cuffi e tutto non è il caso però ve lo potete andare a vedere nell'ultimo mio video dei preferiti prima di questo e lo adoro volamente quindi a confronto tutti già nessuno mi convince questo però devo dire a prescindere proprio dato oggettivo non ve lo consiglio non si stende bene ed è molto duro quindi no poi 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 mi sa che abbiamo finito rimane solo da farvi vedere la tarte non c'è nessuna tarte ma ho utilizzato il mio solito profumatore il mio profumatore per ambienti e questa volta ho fatto il mix questo è il cofanetto questo è il cofanetto con tutte le essenze voglio vedere tra l'altro questi oli cioè straconsigliati me li ha regalati il mio fidanzato insieme al profumatore al mio mastico l'anno scorso ce l'avevo ce l'avevo nella wishlist e me l'ha preso me l'ha presi e se vi se vi ritrovo il link ve lo metto giù in infobox sono stupendi e ho utilizzato è tapping lo so vedete non vi sto facendo ne mettere le mani ne vi sto facendo sentire il tapping perchè non ho unghie l'ho detto anche le mie stelline oggi su telegram che le mani mi sa che non le vedrete per un bel po' di tempo sono in una situazione disastrosa comunque ho matchato questo vabbè non si vede che lo dico io che è leggero il blossom e quello lì ha rosa eccoli eccoli qua stupendi veramente però tra poco userò uno di un'altra marca all'arancia e cannella che nel periodo natalizio ci sta tutto questi invece sono un po' più freschi infatti c'è lavanda rosa fiore di ciliegio poi poi langilang camomilla e gardenia comunque mi piacciono troppo e durano un'infinità di tempo e il profumatore invece è questo qui anche questo già l'ho fatto vedere e ci ho fatto anche un video questo cambia colore è bellissimo e ha anche effetto cromoterapia e in testelline questo è il mio video dei preferiti io vi mando un bacione enorme sono strafelice perché sono andata giusto in tempo adesso sta per partire un vento assurdo infatti pensavo anche di non riuscire a registrare questa sera perché io vedo sempre le previsioni prima di prepararmi per non fare tutto a vuoto e le previsioni portavano vento forte e quindi non ero intenzionata a registrare come avevo detto anche oggi su telegram anche se avrei voluto però non sentivo vento ho detto ma fammi approfittare prima che perché ho visto che da oggi in poi il tempo sarà una schifezza e poi non avevate nessun video mio da guardare per questa settimana quindi sono felicissima che giusto in tempo mi sono preparata portato tutto sulla scrivania e mi sono catapultata a fare il video perché sta per partire un vento micidiale quindi grazie natura che ha aspettato che finisse il video ok stelline basta chiacchierare vi mando un mega mega bacio un abbraccio grandissimo sogni d'oro fate i bisogni ciao stelline mie buonanotte 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 buonanotte